a tutti voi e soprattutto a Giotto che era il bellissimo San Bernardo di Busoni anche qua c'è un altro San Bernardo, Bernie, con cui interagiamo anche con la stessura di Occulibrali e anche noi saluta Giotto, tutti voi da San Bernardo di Busoni e maestro di Busoni e adesso seguirò per mi permettendo un frammento della Kleine Suite di San Bernardo di Busoni Ciao Ciao Ciao